La postierla della fonda si trova nel centro storico di Pistoia, esattamente in asse con la strada omonima che incrocia l'attuale via Zamenhof. Questa piccola porta, tipica delle fortificazioni medievali, consentiva un accesso immediato dalla zona di Ciliegiole al centro abitato. Fu chiusa dalla Torre Rocca realizzata nel 1543. La postierla ha una larghezza di 145 cm di lato con stipiti in pietra arenaria.